Nella giornata del consueto appuntamento del Comitato Tecnico Scientifico che stabilisce ogni venerdì i colori che le regioni assumeranno dalla settimana seguente, le speranze per un cambio di fascia da rosso ad arancione erano fin dall'inizio molto ridotte. Già mercoledì infatti il DG Welfare Lombardo Giovanni Pavesi aveva dichiarato che era molto difficile che la situazione in Lombardia cambiasse, ma a sciogliere ogni dubbio e ad anticipare la decisione del CTS è stato immattinata il presidente di Regione Lombardia Tiglio Fontana. Temo che si vada verso una conferma della zona rossa, ha dichiarato infatti Fontana. I dati da un certo punto di vista stanno leggermente migliorando, l'RT sta migliorando, purtroppo però sono ancora alti i letti occupati negli ospedali e nelle terapie intensive. Niente da fare quindi per le scuole, negozianti e i parrucchieri che con la conferma della zona rossa dovranno rimanere chiusi ancora fino a dopo Pasqua. C'è da dire però che l'eventuale passaggio a zona arancione sarebbe durato poco, solo da lunedì prossimo a sabato 3 aprile, quando invece scatterà la zona rossa nazionale per evitare un innalzamento dei contagi con le vacanze pasquali.